Diventare da Radical Chic a Radical Grezzo, autentico marchigiano, è quanto propone il comico fermano Piero Massimo Macchini, che ha lanciato ad Ancona il suo manifesto elettorale Radical Grezzo, un volume di 157 pagine che sarà presentato in 15 comuni delle Marche e che molto probabilmente apparirà anche al prossimo Salone del Libro di Torino. Radical Grezzo perché è un partito, un manifesto che si scaglia ferocemente contro la fuffa dei Radical Chic che ci hanno riempito per tanti anni, ma invece noi vogliamo essere grezzi, come dice la parola stessa, non contaminati puri, come mamma mi ha fatto e come mamma mi ha mantenuto per tanti anni, tra le altre cose. I candidati chiaramente hanno iniziato ad avere molta paura di me, infatti si presentano un po' pochi quando ci sono io, ma se non lo facevo da solo nessuno mi avrebbe chiamato in regione, quindi ho preso la stanza, Raffaello, e ci sono presentato. Grazie all'assessore Pieroni che ci ha avuto il coraggio di venire, grazie a Simone Giaconi che ha prodotto questo libro, insieme a Matteo Berdini il quale ha corretto le bozze, anche se secondo me non ci serviva, che correggeva, comunque le ha corrette. Grazie a loro oggi sono qui, anche grazie al progetto Marchetube, che è anche grazie alla mia compagna che comunque tiene i bambini a casa, perché comunque questi tra l'altro bambini sono bellissimi quando li fai, poi dopo capisci che magna, magna tutti i giorni, e quindi questo libro va anche a sfamare la loro fame. Credo che sia stato il giusto riconoscimento a un artista, a un marchigiano che ormai da tanti anni ha travalicato i confini della regione Marche per proporre con un modo diverso la marchigianità e tutti noi marchigiani. E soprattutto è una trilogia a cui si aggiunge l'ultimo volume, sicuramente che va letta per approfondire in modo, non tanto scherzoso ma anche approfondito, come siamo noi marchigiani e cosa sarebbe bene portare avanti per la nostra regione.